Buon pomeriggio e benvenuto in questo nuovissimo video relativo ad Amazon. Prima di tuffarmi nel video di oggi e nell'argomento di oggi, voglio ringraziarti davvero di cuore, come sempre, per la tua presenza, per il tuo tempo e per tutto questo processo insieme. Se ancora non sei iscritto al canale, mi raccomando, iscriviti subito e lascia un like se questi video ti piacciono. Bene, di che cosa andremo a parlare oggi? Come dico sempre, l'avrei visto nella copertina o nel titolo insomma, è una novità di Amazon che diciamo sta richiedendo a tutti i seller e quindi sicuramente anche te ne sarai convolto in qualche modo. Quindi comunque sì, avrai visto la notifica e sto parlando dell'obbligatorietà di fornire una persona responsabile per l'Unione Europea per quanto riguarda i prodotti che hanno bisogno di una marcatura CE, quindi una certificazione europea. Ecco, quindi questo è un seller central, ok? Facciamo finta che sia il tuo, ti comparirà, questa è la nuova dashboard, come sicuramente ti sarai accorto. Che cosa succede? Che dovrai, vedrai comparire un caso, un nuovo caso che si apre in automatico, ovvero, scusami, è Amazon che ti sta comunicando che è necessario andare a fornire i dati di questa persona responsabile. Ma andiamo a vedere più nello specifico e nel concreto, quindi troverai un caso aperto, entrerai nel registro dei casi, ci puoi entrare sia da qui che anche qua giù in basso dove si trova la sezione relativa proprio ai casi, quindi alla sezione aiuto e dentro devi trovare proprio i casi. Te lo faccio vedere direttamente in caso non lo trovassi, vai nella sezione aiuto e poi c'è il registro dei casi e qui vai a vedere i tuoi casi. Dentro il caso che questo si aprirà ci sarà scritto sostanzialmente Amazon ti riporta tutto quello che devi fornire o le pagine, i vari link alle pagine che ti servono per fornire questa persona responsabile. Ma per semplificare il tutto e sono qui per questo, quindi per renderti la vita più semplice sostanzialmente, il mondo Amazon seller nello specifico. Bene, qua Amazon cosa devi fare? Il primo link che ti dà è quello per fornire appunto una persona responsabile per i tuoi prodotti ma soprattutto ti rimanda alla dashboard specifica dove appunto puoi andare a vedere se ci sono dei prodotti che hanno bisogno di questa persona responsabile oppure no. Quindi basterà che selezioni il link, lo apri in un'altra pagina o dove vuoi e aprendolo ti si aprirà questa dashboard della persona responsabile, quindi come vedi siamo già nel concreto. E qua per ogni marchio che hai o non hai, relativo ai tuoi prodotti, ti verrà chiesto di fornire la persona responsabile, però attenzione ovviamente riguarda solamente i prodotti che hanno un marchio CE. E se non hai prodotti a marchio CE puoi stare tranquillamente tranquillo appunto, puoi stare tranquillo e eventualmente puoi fornire una contestazione e fare in modo che ti venga rimosso. Bene, come si fanno a fornire eventualmente i dati della persona responsabile o fare una contestazione? Beh, dove ci sono gli ASIN, il numero di ASIN, anche per, ripeto, per chi ha altri marchi, quindi che non sono di proprietà, quindi anche per un marchio non registrato, dovrai andare in visualizza i dati della persona responsabile e da dentro ti fa selezionare i vari prodotti e andare a compilare le informazioni. Ecco, qua dentro ad esempio se te selezioni un ASIN puoi fare che cosa? O fare una contestazione oppure andare a inviare i dati della persona responsabile. Ovviamente in questo caso specifico sono ad esempio mascherine e c'è bisogno dei dati della persona responsabile. Attenzione che comunque c'è una scadenza, la scadenza è fissata per il 2024, per il 30 settembre 2024, quindi hai molto tempo, però comunque sia prima lo fai meglio è così ti levi il pensiero e in questo modo eviti che arrivato alla scadenza quello che succede è che magari il tuo ASIN venga disattivato. Quindi se devi fornire i dati semplicemente vai e invia i dati della persona responsabile e vai a compilare quello che ti chiede lui, quindi nome dell'azienda responsabile, paese, tutta sta roba qui. Quindi vai anche a dire se la responsabilità sul prodotto è universale o specifica, quindi solo su determinate scorte o su tutta la fornitura. Quindi anche qui vai a indicare tutta questa roba qui e poi accetti le condizioni e invia e sei a posto. Se invece è un prodotto che non richiede questa roba qui puoi tranquillamente in realtà ignorare la cosa oppure fare una contestazione e in quel modo ti verrà, diciamo, rimosso il prodotto da qua. Ripeto sempre da qui, contestazione. Ma questo diciamo è la parte pratica, cioè io so, cioè noi sappiamo che dobbiamo fornire i dati della persona responsabile, ma la domanda è chi è la persona responsabile? Perché alla fine uno dice sì, ok, metto i miei dati, non li metto? Ecco, sono qui appunto e apposta per darti queste informazioni. Qua sopra se ci hai fatto caso Amazon ci dice hai bisogno di aiuto? E ti rimanda dei link dove appunto puoi andare a vedere maggiori informazioni. Cliccando sul secondo link, quindi per maggiori informazioni su come e quando nominare una persona responsabile, consulta questa pagina e aprendola si aprirà prima un'altra pagina semplice nel senso e poi quindi sulla sicurezza e conformità dei prodotti e poi da lì potete tranquillamente arrivare ai requisiti della persona responsabile, ma comunque questo link qui lo troverai in descrizione. Quindi qui in descrizione al video troverai direttamente questo link che ti metto, così ci arrivi subito per capire quali sono i requisiti e all'interno di questa pagina ci sono tutte le informazioni di cui hai bisogno, sia per capire quali sono in genere i prodotti che hanno bisogno di un marchio CE, quindi capire anche se i prodotti che sto vendendo effettivamente ce lo devono avere oppure no. E questa roba qui ovviamente è scritta qua dentro, ad esempio qua vediamo scritto Comunemente i prodotti sono giochi e giocattoli, dispositivi elettronici, dispositivi di protezione individuale, come ad esempio le mascherine, macchinari, protezione da costruzione, apparecchi, insomma eccetera eccetera. Quindi qua ci sono tutte le informazioni come anche viene spiegata che cos'è questa normativa che appunto dell'Unione Europea che richiede appunto la persona responsabile. Ma non solo, scorrendo più in basso possiamo direttamente trovare chi è la persona responsabile, quindi chi può fungere da persona responsabile per l'Unione Europea e qua dentro troviamo effettivamente se puoi essere te oppure no. Quindi se sei il produttore o il marchio purché abbia sede nell'Unione Europea uno dice sì ma io non sono il produttore, quindi potresti essere magari un importatore che però hai sede nell'Unione Europea, quindi magari ordini uno stock dall'estero quindi importi la merce in Europa, te sei la persona responsabile. Un rappresentante autorizzato, nominato per iscritto o dal marchio oppure un fornitore di servizi di gestione logistica, un sede nell'Unione Europea insomma tutta questa roba qua ci sono quali sono i compiti eccetera. Quindi ti consiglio assolutamente di dare un'occhiata a questa pagina qua che comunque ti ripeto troverai linkata qua sotto ma in genere se vendi in Europa ti metti d'accordo col produttore, col fornitore e così via e cerchi di capire intanto se sei in regola con i prodotti con la marcatura CE e seconda di poi chi è la persona responsabile se lui ti dice guarda agisco io perché ho una sede in Europa bene sarà lui altrimenti sarai te sostanzialmente. Comunque ripeto la scadenza 2024 quindi tutte le tempistiche per andare a informarti, parlare con il fornitore ma in genere è una cosa abbastanza semplice si tratta semplicemente di capire chi è responsabile per questa marcatura qui in Europa. Ovviamente se importi dei prodotti che hanno bisogno del marchio CE ovviamente dovrai saperlo prima anche perché se no magari hai problemi anche con la dogana e così via quindi mi raccomando cerca di informarti per tempo comunque io ti ho fatto vedere esattamente quali sono gli step molto semplici ripeto dalla sezione di Amazon normale potrebbe comparirti un caso aperto ci entrerai e sarà questo caso qua con scritto tutte le varie informazioni da qui vai nel primo link direttamente ti si apri al dashboard della persona responsabile o semplicemente cerchi dashboard persona responsabile o persona responsabile lo cerchi nella barra appunto qua su in alto di ricerca così da trovarlo comunque andrai a dare le informazioni della persona responsabile oppure fornire la contestazione nel caso in cui il prodotto non abbia bisogno di un marchio CE ma sia comunque stato inserito qui dentro da Amazon e basta e poi comunque troverai nel link tutte le varie informazioni che ora non sto qui ovviamente a leggertelo tutto ma sostanzialmente se il prodotto ha bisogno di un marchio CE e sei un importatore, produttore o comunque sia hai dei rapporti con un fornitore che comunque ti fa vendere prodotti a marchio CE in Europa ovviamente devi fornire questa persona responsabile che sia lui o che sia te molto molto semplice ti ho fatto un riassunto molto breve e poi nel link comunque trovi tutte le informazioni sono qui appunto per cercare di renderti la vita semplice questa è la cosa più importante bene per questo video direi che è tutto è una cosa nuova e tanti lo state segnalando anche nel gruppo Facebook in cui ti invito ovviamente ad iscriverti lo trovi qui sempre in descrizione è gratuito puoi interagire con altri seller c'è tantissima coesione è veramente un grazie di cuore a tutti i presenti noi ci vediamo in un prossimo video relativo ad Amazon e tante buone vendite un in bocca al lupo per tutto e alla prossima grazie ancora di cuore grazie a tutti